Match point tricolore, anzi due, il primo in casa nel palazzetto talismano Pallaromare di Schio stasera alle 20 con sold out garantito l'eventuale secondo di nuovo a Bologna in casa della Virtus Segafredo al Paladozza sbancato sabato sera dopo il match in presa di Sottana e compagne. Il Famila Basket Schio cerca il bis nella replica della Serie Spodetto 2022 per completare quella che si potrebbe definire come la miglior annata di sempre della gestione cestaro e con ogni probabilità per la pallacanestro femminile italiana. Dopo che la prima missione più ardua è stata compiuta davanti a un pubblico record di 5.300 spettatori paganti, le atlete in arancione del basket italiano provano a firmarne un altro. In caso di vittoria il Palasport di Schio chiuderà la stagione con l'invio l'abilità assoluta e se ciò accadrà davvero sarà festa a Scudetto e Triplet in Italia per la beniamina di casa. Guai però a cantare vittoria prima della sirena perché le nere bolognesi sono rimaste agganciate per tutto, perdendo in tutto e per tutto, perdendo gara all'ultimo canestro. Famila a caccia alle 20 del dodicesimo scudetto e Terle Orange sarebbe il coronamento di una stagione veramente memorabile.